Anche nel 2017 la confraternita della misericordia di Villa Falletto, sotto l'egida delle terre di Savoia e del Comune, ha indetto la processione del mortorio pasquale. Il 12 gennaio 1622 una lettera patente dell'allora Vescovo di Fossano autorizzò l'erezione a Villa Falletto della Compagnia della Misericordia, sotto il titolo e protezione di San Giovanni Battista, oggi detta anche della Nera. Le funzioni di preparazione alla Pasqua avevano un'importanza tutta particolare. Gli statuti della confraternita, emanati in quegli stesso anno, impegnavano i confratelli a fare ogni sforzo per ritrovarsi agli uffici la sera, nella settimana santa, et massime al giobbia, per la processione che si farà, conforme al volere et o ordine del priore e regenti della compagnia. Nel 1715 compare per la prima volta la menzione del nuovo rito processionale del funerale del Cristo, tipico dell'età barocca, organizzato dalla confraternita, di cui un grandioso corteo funebre, preceduto da un'aspettacolare deposizione della croce nella Salma del Cristo e che si conclude con la sua sepoltura o in terro, il mortoglio pasquale. Molto lavoro è richiesto per trasformare la confraternita che dalla sua ordinaria funzione deve essere addobbata a lutto, ricreando un monte calvario con relativa salita e un sepolcro per l'intero del Cristo. servono i preparativi da parte di confratelli e consorelle, che seguendo le antiche indicazioni riassettano, controllano la corrispondenza numerica e qualitativa di costumi, misteri, sai e bordoni, candele, torce e bastoni, che ogni personaggio dovrà portare in processione. si ripara ciò che è rotto, affinché tutto sia pronto per il solenne mortorio. Alla sera, di buon'ora, si radunano i vari personaggi. Chi nel cortile, dove si ripassano le istruzioni, chi all'interno della confraternita, dove si ricevono le indicazioni dai responsabili organizzatori e si procede alla vestizione dei personaggi, che richiedono minuziose attenzioni. Ora, sono tutti pronti e non resta che attendere l'inizio della funzione e la propria chiamata per formare la processione. Nel frattempo, alcuni personaggi con tamburini, tarabacchi e raganelle percorrono le vie del paese per annunciare l'avvenimento della serata. Arrivano i personaggi preparati in altri ambienti, le orfanelle, gli angioletti, angeli più grandicelli, i soldati con fucile e baionetta, i carabinieri in alta uniforme, i chirichetti, i sergentini, gli angeli cantori, le confraternite ospiti e la banda musicale. Cala la notte, le candele sono accese, il maxischermo trasmette dall'interno e le autorità dei comuni viciniori della provincia e della regione sono riunite per l'imminente inizio. Seguiamo il mortorio in religioso silenzio. Vediamo inizio a questa nostra manifestazione del mortorio pasquale. Quando fu un altro giorno si fece il buio su tutta la terra, fino alle tre del pomeriggio. Verso le tre Gesù griglò, e lì, e lì, le massa partali, che vuol dire, Dio mio, Dio mio, I DME shopping si trova e i vedi come manca. Dio Carabinieri, detto personen ispione. Grazie. 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 Dopo il pitoso e mesto rito e la deposizione della croce e dopo gli onori fatti al Cristo inizia il nostro mortorio, in specie un funerale pubblico per onorare la morte di Cristo come momento di inizio della nostra resurrezione. Scendono dal palco ed escono dalla chiesa tre incappucciati con una gallella in centro. Grazie. 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 Oltre cruci su spedio, oltre cruci su spedio, oltre cruci su spedio, oltre cruci su spedio. Oltre cruci su spedio, oltre cruci su spedio, oltre cruci su spedio, oltre cruci su spedio, oltre cruci su spedio. Oltre cruci su spedio, oltre cruci su spedio, oltre cruci su spedio. Oltre cruci su spedio, oltre cruci su spedio, oltre cruci su spedio. 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 Oltre cruci su spedio. Oltre cruci su spedio. Oltre cruci su spedio. Oltre cruci su spedio.